La Salernitana, in attesa di annunciare Vincenzo Torrente come nuovo tecnico, si muove sul mercato alla ricerca di rinforzi per la Serie B. Per l'attacco sono due i nomi che il direttore sportivo Fabiani sta seguendo con insistenza e sono Cani e il Crotonese Ciano, due attaccanti di spessore da affiancare a Gabbionetta e Khalil per affrontare al meglio la Serie B e magari puntare in alto. Maciano, secondo l'esperto di mercato Pedulla, è seguito anche dal Sassuolo che lo vorrebbe a tutti i costi. Le 17 reti nell'ultimo campionato di Serie B sono il miglior bigliettino da visita. È vero che per avere le idee chiare sul suo futuro bisogna capire bene il futuro del Parma, ma il Crotone aveva strappato un prestito biennale e qualsiasi decisione passerà dal club crotonese. C'è da aggiungere che per il bomber rosso-blu negli ultimi giorni si è fatto avanti anche il Bari alla ricerca di attaccanti importanti. Infine, anche per Maiello ci sarebbe l'interessamento sempre del Sassuolo, tanto è vero che dovrebbe esserci un incontro con gli emiliani per decidere il suo futuro e naturalmente quello di Ciano. Anche Dezzi, in comproprietà fra Crotone e Napoli, è ricercato e soprattutto dal Pescara, ma di questo se ne parlerà una volta che sarà risolta la comproprietà, visto che i due club in questione hanno strategie diverse sul futuro di Jacopo. Pescara è comunque una meta gradita. Non ha tardato ad arrivare la replica del Catanzaro alle dichiarazioni dell'ex tesserato Camerà, che secondo lui sarebbe stato presso in giro da Cosentino. Le sue dichiarazioni vengono definite prive di fondamento, ma soprattutto lesive dell'immagine della società e del suo presidente. Tanto è vero che l'ufficio legale ha già avuto mandato di valutare l'avvio delle opportune azioni nelle sedi competenti, a tutela di un'immagine costruita in cinque anni di impegno, serietà e correttezza sportiva e gestionale, che nessuno può tentare di scalfire in alcun modo, tanto meno dispensando lezioni o seminando illazioni. Inoltre è stato deciso che nessun tesserato rilascerà dichiarazioni in merito a questa vicenda, che vede la società partelesa sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. La crisi economica ha messo a serio rischio il futuro di molte squadre. La situazione in Serie D è drammatica e molte potrebbero non iscriversi al campionato, tra queste anche la Palmese. Allora, Presidente o ex Presidente, come ex Presidente, l'azionariato popolare può salvare il Palmi Calcio e tutto il movimento che c'è intorno a questa squadra? Io dalla mia esperienza ritengo che Palmi, se ha voglia di rispondere con un piccolissimo impegno, sicuramente riuscirà a risolvere il problema. La mia provocazione è una provocazione legittima, perché comunque parte da un progetto che è stato assolutamente portato a termine, che è quello della promozione in Serie D, ed è giusto che adesso sia la città ad interessarsi di quello che dovrebbe essere il futuro della squadra di calcio. Se si dovesse concludere l'iscrizione della squadra al campionato, io sicuramente continuerò a dare una mano in altre vesti, sicuramente perché non intendo assumere ruoli di vertice, perché vorrei dimostrare alla gente che quello che faccio lo faccio con l'amore verso la mia comunità. Non ho interessi personali, non mi piace parlare il politichese, anche se nel passato l'ho parlato anch'io, mi piace dire le cose come stanno e soprattutto dire alla gente che bisogna essere uniti per poter raggiungere quegli obiettivi che noi con grandi sacrifici in tre anni siamo riusciti a mantenere. Quindi iscrizione significa impegno di carbone per la Palmese? No, iscrizione non significa impegno di carbone per la Palmese. Parbone oggi non parteciperà più ad alcuna riunione dove si parlerà di Palmese. Carbone potrà rientrare all'interno di un nuovo progetto dopo che la squadra sarà iscritta al campionato. Carbone non parteciperà alla iscrizione al campionato. Carbone ha già dato, ha già fatto e oggi è giusto che sia la città a dare una risposta rispetto alla continuità di quello che abbiamo fatto.